Buongiorno a tutti, mi sono mai a Tizimanti e benvenuti finalmente allo speciale dei 20.000 iscritti Ragazzi dopo 6 mesi esatti più o meno 7 quasi dallo speciale ai 10.000 iscritti Abbiamo già rifatto 10.000 iscritti quindi ora ci troviamo a 20.000 persone che hanno cliccato il tasto iscriviti al mio canale Ragazzi veramente grazie con il cuore Prima di ringraziare voi devo anche ringraziare tutte le persone con cui ho collaborato sui loro e sul mio canale Che sono state veramente gentili a partecipare a video insieme a me o a farmi partecipare ai loro video Non smetterò mai di ringraziare loro ma soprattutto anche voi che avete deciso di seguire il mio canale Avete deciso di cliccare il bottone iscritti Avete deciso di aprire i miei video tutti i giorni o di seguire le mie live O di seguire i miei post su Instagram, Telegram, Facebook ovunque voi Mi seguiate E nulla veramente grazie con il cuore per farmi arrivare a questo traguardo E non sarà il primo perché visto che ormai siamo a 20.000 iscritti Perché non puntare i 30.000 che è questo che voglio fare Puntiamo ancora più in alto, puntiamo a numeri più grandi E nulla davvero Grazie mille con il cuore Prima di darvi i saluti volevo dirvi una cosa Infatti questo non sarà l'unico speciale del canale ma il secondo speciale del canale Parteciperete pure voi Cioè cosa dovrete fare Andare sotto in descrizione troverete il mio link per Instagram Seguitemi su Instagram che è cosa buona e giusta Quando uscirà questo video su Instagram uscirà una foto In cui vi dico gentilmente se potete mandarmi tramite messaggio privato Unicamente ve lo ripeto Quindi se me lo inviate da Facebook, Telegram non vi cago assolutamente Dovete inviarmi unicamente su Instagram tramite messaggio privato Il vostro numero di telefono Che farò un secondo speciale che si chiama I call you Che in poche parole sono io che chiamo voi E faccio una sorta di reazione e vi metto all'interno dei video mentre vi chiamo E' una cosa carina che ho visto fare da Wando e da Mark E ho detto ok facciamolo anche noi Facciamolo per uno speciale molto decente Cioè lo speciale dei 20.000 iscritti E infatti sono due Questo è il mio primo speciale Cioè ringraziarvi con il cuore Voi che avete deciso di seguirmi Voi che avete deciso di collaborare E soprattutto me stesso per il lavoro Che finalmente sto facendo un po' decentemente E nulla Ci vediamo in un prossimo video Adesso vi lascio col Montage Ma prima dovete fare il puff Meno 3, 2, 1 PUFF Ciao a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.